Buongiorno a tutti. Per una categoria di lavoratori nel nostro Paese è un momento ancora più delicato perché da una parte soffrono come tutti gli altri i rischi legati a questa crisi economica sulla loro pelle, sui propri studi professionali, ma dall'altro devono essere pronti ad aiutare tutte le imprese e i loro clienti per dare risposte. Ai microfoni di Ok Italia Parliamo ne abbiamo avuto un ospite di eccezione, abbiamo il contributo di Achille Coppola, segretario del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che ha fatto per noi una disamina sulla situazione attuale dello stato delle finanze del nostro Paese e di quanto sia stato messo in campo con il DL Cura Italia, ma quanto veramente bisognerebbe ancora fare. Vediamo il contributo di Coppola. Buongiorno agli amici di finanziamenti.it, oggi 26 marzo, circa 20 giorni fa sono partite le misure di lockdown per l'intero territorio nazionale, quelle misure che ci hanno costretto a rimanere a casa e che sempre più dimostrano l'impatto che la crisi sanitaria sta avendo sui sistemi produttivi e sulla finanza delle imprese. La violenza dell'epidemia sta mettendo a dura prova i governi di tutto il mondo, il governo italiano, oramai è quotidiana l'emannazione dei decreti, dei decreti legge, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle ordinanze delle regioni e soprattutto questo evidenzia quanto in realtà si navighi a vista, la crisi è inusitata, di economie di guerra abbiamo avuto contezza, lo scorso secolo ci hanno messo di fronte a dure realtà, ma di economie colpite da virus in questa maniera e nel periodo della globalizzazione in realtà è la prima volta che ci si è camati a confrontarsi. In questo contesto tutto pare inadeguato, in particolare in un paese indebitato come l'Italia, vediamo che il sistema delle imprese e dei lavoratori autonomi correttamente si rivolgono al governo, il governo anche causa il fardello della nostra economia, in particolare il debito si rivolge all'Europa chiedendo varie misure dallo sblocco delle norme restrittive sui bilanci all'aumento dei finanziamenti che in realtà poi è avvenuto attraverso l'intervento della BCE, ma ci si domanda di quanto questi interventi debbano essere e quale deve essere soprattutto la loro portata. Ci rendiamo conto che all'inizio della crisi parevano adeguati 25 miliardi, poi abbiamo capito che con 25 miliardi non si faceva nulla, stamane si parla di altri 25 miliardi, un altro giornale, un grande giornale nazionale parla di 50 miliardi per il decreto di solo aprile. Ieri Draghi sostanzialmente ha ricordato che gli stati devono indebitarsi, devono salvare le famiglie e le imprese, devono aumentare il loro debito pubblico, al contempo Corte dei Conti e Banca d'Italia hanno segnalato la necessità di rendere il debito sostenibile. Draghi nel proprio articolo ricordava che proprio nelle economie di guerra c'è stata un'altra leva che lo Stato ha attivato, quella dell'imposizione. Io auspico che anche in questo caso un uso accorto di questa leva, non solo in termini di sospensione, ma richiesta di contributo ai soggetti che più hanno e più debba avvenire sostanzialmente. In particolare Draghi ricordava che durante i periodi di guerra l'aiuto dato alle imprese e alle famiglie è derivato per il 15% da un aumento dell'imposizione verso i più forti. Il decreto legge cura Italia in buona sostanza è intervenuto, quindi parliamo di un decreto che è intervenuto oramai una settimana fa e già si rivela inadeguato, tant'è che come ho detto si parla di un ulteriore decreto ad aprile. I 25 miliardi messi a disposizione segnano l'inadeguatezza della misura, in particolare per alcuni settori e per alcune categorie, in primis quella dei liberi professionisti e dei lavoratori cosiddetti autonomi o non iscritti agli ordini professionali che sono iscritti alla gestione separata. Quattro i titoli del decreto legge cura Italia, salvo il quinto relegato dove troviamo sostanzialmente misure residuali. Il primo titolo riguarda l'intervento per le misure sanitarie, il secondo titolo è quello per le misure a sostegno dei lavoratori dipendenti e qui si è allargato per nove settimane sia alle procedure sia agli ambiti di applicazione. Il terzo titolo invece riguarda le misure finanziarie a sostegno delle imprese, la moratoria generale sui prestiti dell'articolo 56. Il quarto titolo invece prevede per i soggetti con fatturato inferiore ai 2 milioni e per determinate categorie e filiere particolarmente colpite come quella del turismo, quella della logistica e tante altre previste dal decreto prevede una moratoria dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. È stato fatto sicuramente un primo intervento ma come dicevo è un intervento che va sicuramente potenziato e reso più adeguato, in particolare i lavoratori autonomi non hanno ancora in difficoltà, non hanno un'indenità mensile, così come va registrato che l'intervento a favore delle piccole imprese va potenziato ben al di là di quella che è l'attuale misura di sostegno alla cassa integrazione guadagni, quindi incentivi più automatici, più fruibili, semplificazione delle procedure e l'auspicio che tutte le categorie professionali e di imprenditoriali stanno ponendo. Grazie, buona giornata. Ringraziamo Achille Coppola, segretario del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per il suo contributo chiaro, preciso e puntuale. Arrivederci ai prossimi contributi.